Bene a tutti ragazzi, benvenuti su questo terzo episodio di Minecraft Pocket Edition, la serie principale Come ho detto, in off camera ho tolto un po' di erbacce, che stavano troppo vicino alla casa e mi davano fastidio Però mi sono accorto che di erbacce ci sono un po' troppe, allora nel futuro quando andremo nelle caverne Prendiamo l'acqua, la mettiamo e l'erba si distrugge automaticamente Tutto brutta Nel frattempo ho anche fatto altre nuove cose di semi, di semini Poi, oh polli, ragazzi No, cioè si, venite qua comunque Polli di merda, ce la fate ad entrare No, allora dobbiamo spaccare la porta Odio quando non si vede che si spacca Così polli ci entri Vabbè, ma siete proprio delle teste di me inche allora Però come faccio a tappare tutto, scusa Perché loro comunque possono saltare Oppure no Pollastri Venite qua Dai, state lì Fermi Giù Vai giù Oh ma almeno tu Ok Tu piccolo pollo da me Oh, vieni qua allora No, non saltare qua Non saltare Stai giù Giù, giù, giù Giù Bravo Che avrei ancora un blocco sotto di loro Ecco, così sono sicuro Qui metto Il blocco così sono sicuro che Quei due cose non scappano Anche se non possono scappare Quei sette semini All'inizio volevo Volevo Portare dentro questa cesta E andare avanti Perché si è buggato Cioè non si vede più come Si distruggono le cose Comunque Di andare un po' avanti Nella costruzione Delle varie Come si chiama Della casa Non delle varie cose Della casa Qui questa E qui una cesta Anche se tipo sono un pirra Vabbè L'abbellire la casa Sarà in futuro Adesso Continuiamo qua A costruire questo In questo episodio ragazzi Non so se finisco la casa Sempre tipo Facendo il video Oppure facendolo off camera Però Cioè la continuo con voi Anche perché così Facciamo anche un po' di episodi E voi mi dite Così Come si chiama Se non mi dite Ebbè ma tu Tu Bari Tu ste cose qua Cioè non so Ci sono vari programmi Per metterti le risorse E uno di voi mi dice Ah beh Se non hai fatto le risorse Con noi Che ne so Tu forse sei andato Per vedere Vedere no Per andare a prendere Le varie cose Con quel programmino là Ragazzi Non mi posso dire no Perché Vi devo dare ragione Perché Appunto Cioè Che cazzo sto dicendo Ragazzi No Allora La mia La mia frase era che Comunque avete ragione Finito il legno No Mi tocca Allora Alberello Devi fare il tuo dovere Ok No Si troppo Madonna mia Per un certo secondo Mi ero cagato le dos Perché ho detto Cavolo se lo distruggo Dopo non ce l'ho più Siamo qui là Sperando che cresci Qui inoltre Si sta facendo note Però figo anche così Tipo un'entrata Più in qua No dai scherzo Come ho detto L'abbellire la casa Ci sarà Nei prossimi episodi Metto a dormire Questo coso qua E in tre secondi Vengo da voi Ragazzi Vabbè Dai Poi dobbiamo Soltanto di notte Mago Grazie al cavolo Comunque la casa Sta venendo bene Manca solo mettere Il vetro Ancora Con un po' di legno Qua Perché tipo Non faccio tutto vetro Ma faccio Un po' di vetro Per poter vedere qualcosa Ok ragazzi Ci sono Ero andato a bere Un bicchierino d'acqua Perché ci avevo sete Come stavo dicendo Mettiamo prima le cose Nacere Perché se crepo Con queste cose qua Legno Dobbiamo per forza Rifarlo C'è la faccia Transformarlo Tutto Tutto no Serici Facciamo tipo Poco per poco 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 Perché Sì Anche se tipo Ce ne avanza Lo possiamo comunque Usare Però All'inizio Se non ci avanzano Tanti materiali Comunque È meglio Qua ovviamente Ti fatti un puntetto Così Qua Distruggere Però questo Ah è come Staviva la cetta Ci arrivo Ragazzi Ci dovrei arrivare Vero No Non ci arrivo Ovviamente Quindi ragazzi Cioè Di alberi ce ne abbiamo Ancora Comunque Ce n'è là Ce n'è tutto là Tutto là Però comunque Più alberi ne abbiamo Vicino a noi Meglio è Perché questo Significa Meno Lavoro Giusto che adesso Stiamo facendo il contorno C'è il contorno Del tetto Ovviamente Non contorno Degli antipasti Ste cose qua Secondo me Ci mi serve Altro po' di legno Oppure no Mica che culo Giusto Però devo mettere Anche qua Così Poi qua Cosa ci potrei fare Ragazzi Qua sopra Vabbè Riempiamo tutto Oppure Rialziamo Boh Dai io direi Di rialzare Tanto per fare un po' Lo suo Go Tipo La prima casa Che sia già una bella casa Ste cose qua Vaffan Sì Si è messo bene Lei No Si è messo bene Per niente Così Poi dopo Ragazzi Mi state dicendo Mi direte Che devo mettere Anche delle torce Sopra Quando giocheremo Con i mob Perché adesso Prima che ci mettiamo Un po' a posto Con le cose Gioco un po' a posto Inza mob Che anche comunque Ogni volta che si fa una notte Devo andare a dormire Perché se no Voi non vedete niente Quindi Comunque Una cosa è fighissima Ho metto delle torce Qui dentro E adesso Devo andare A prendere la sabbia E già che sono Prendo queste due cose qua Infatti c'è un piccone Per andare in maniera Non so All'inizio A prendere un po' di Come si chiama Di coble Di pietra Il grano sta Pian piano Crescendo L'alberello Non sta crescendo per niente Ma Sono dettagli ragazzi Ovviamente Non entro in tutta la caverna Perché dopo Voi non vedete più niente Però Entro solo per prendere un po' di Cobblestone Di pietra Però nel suo tempo Sono curiosissimo Per vedere cosa c'è lì dentro Ok ragazzi Ho capito Cosa volete Fare per forza Delle cavole di torce Ah Spacco dei blocchi E pian pianino La caverna si illumina Secondo me Qua non c'è niente È una caverna C'è un buco Ok Abbiamo legno abbastanza C'è legno Che si chiama Pietro Che mi confondo sempre Cavolo Adesso comunque Non è venuta male Stavo dicendo Fornace Che la ficchiamo Per adesso Lì Poi mettiamo A cuoce Per fare delle torce Ovviamente Tipo Servirà un bel po' di legno Che comunque Poi lo vado a riprendere Ragazzi Lo so Se vuoi fare Una cosa Perché la francia No la francia L'incontrale Fa schifo Così Stai dicendo Se vogliamo fare Una cosa Bella Dobbiamo Investire tutti I nostri materiali Che abbiamo 3 10 Anche se Tipo Non servono 10 Però comunque Così Così Facciamo la carbonella Di stick Eh Per fare le stick Ce le abbiamo ancora Ah Poi tanto C'è ancora Le betulle Ok Quindi siamo a posto Facciamo tutto stick Comunque Dobbiamo fare Tantissime torce Mi farei anche Una spada Di pietra Gli occhi sono Perché se trovo Degli animali Da Da Massacrare Li posso Massacrare Tranquillamente Una delle semifere Dessi due polli Si sono Cioè Se quel pollo Più piccolo È cresciuto Pezzo di tua madre Mi hai fatto Per il legno Figlio di Cagna Ovviamente Già che sto A pensarci Cioè Visto che ci sto Pensando adesso È più facile Far così Così Più facile Sarebbe Metterci Un altro Outdoor Però comunque Non sarà Nel loro posto Lì Quindi Ricopriamo Qua così Che ci vediamo Che lì Ci sono I polli Siamo Tutti felici E contenti Ok dai Allora In questo episodio Abbiamo fatto Niente Piantato Cioè Stiamo fatti Una fornace E facendo le torce Gli ultimi Tre minuti Di questo episodio Cioè Tre minuti No Due minuti Cioè Così Vado A prendere un po' Di sabbia Per fare Fare il vetro Poi ragazzi Cioè Scusate Se non avevo parlato prima Cioè Avevo usato una frase Però non l'ho più finita Stavo dicendo Prendo un po' Di sabbia Stavo pensando Tipo Se non abbiamo Che comunque Per adesso Non sarebbe servito Niente Perché Non so Berla Adesso Non è che serviva Tanto E che sarà Una casa Sempre Anche se Stiamo a pensare Se per caso Nei commenti Mi 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 Sto Sto Cosa Mi 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 Band Condo C'è tutto il legno per fare 13 pezzi di carbonella, siete pezzi. Quanto cuoce una carbonella solo per chiedere? Se come il carbone dovrebbe essere 8 pezzi. Quindi 8, 16, 24 servirebbero 3 pezzi. Mettiamo ne 4 va. Fan caro. Con gli altri ci facciamo delle torce. Ok, ci facciamo 28 torce, perfetto. Mettiamo le torce qua così. Poi concludo qua questo episodio ragazzi. Ci vediamo tutta la porta. Chiudo l'episodio, ci vediamo al prossimo episodio ragazzi. Bella ragazzuoli.